Purtroppo questa legge di stabilità non ha fatto per l'ennesima volta nulla per quanto riguarda i sindaci virtuosi. Abbiamo casi eclatanti, ci sono 2500 amministrazioni in Italia che dovranno restituire risorse al fondo di solidarietà e sono sindaci che hanno per scelta non aumentato l'IMU sulla prima casa. Io penso che questa sia una cosa incredibile, soprattutto perché è stato cancellato quei criteri di virtuosità che dividevano tra sindaci che hanno ben amministrato e sindaci, la maggior parte del sud, che hanno male amministrato i propri comuni. Questo assolutamente il governo non lo doveva fare, noi abbiamo presentato emendamenti perché questa ingiustizia venga cancellata.